Buonasera, buonasera e benvenuti, grazie di essere qui questa sera per la presentazione del nuovo libro di Prando Prandi che ripercorre la storia, la carriera, i momenti più significativi della vita di un grande maestro di tennis, sicuramente un numero uno nel trevigiano e non solo. Racchiusa nelle pagine di questo libro una storia di audacia, una storia di passione per il tennis, di amicizia, di resilienza. Prando Prandi racconta Bepi Zambon nel suo libro Bepi oltre la rete. Ma prima di entrare nel vivo della nostra presentazione un doveroso ringraziamento a Fondazione Cassamarca nella persona del suo presidente, il professore avvocato Luigi Garofalo che ci ospita questa sera in questa meravigliosa cornice qual è Casa dei Carraresi e quindi io inviterei qui vicino a me il professore l'avvocato Garofalo per i saluti iniziali. Grazie, grazie a lei, grazie a tutto il pubblico. Mi veniva in mente che abbiamo tante ragioni per essere felicissimi di questo evento. Il primo è del tutto autobiografico e quindi se fossi una persona elegante tacerei, ma invece non volendo proprio essere tutto inelegante ma insomma un cenno a quegli anni settanta in cui io avevo conosciuto Bepi ci vuole. Dopo che avevo iniziato, l'ho visto prima, a giocare a tennis durante le ore di educazione fisica alle Stefanini con Luigi Polonna che prima, eccolo là, bravo Luigi che mi hai fatto nascere la passione per il tennis poi coltivata con Bepi. Quindi grazie a tutte e due, a Bepi in particolare che ci presenta un libro bellissimo che è protagonista di un libro scritto magnificamente da Prando Prandu. Ma la seconda e vera ragione è questa, in realtà non è un evento isolato questo, però mi piace sottolineare che è il primo di una serie di appuntamenti che avremo con lo sport perché la fondazione nella sua nuova e più recente versione sarà attentissima a questa manifestazione dello spirito e della persona umana. E quindi abbiamo anche proprio con Prando Prandu immaginato, tutto abbiamo già approvato in seno agli ordini della fondazione, una galleria virtuale dello sport trevigiano che dovrebbe consentire a tutti, a tutti i trevigiani e non che passeranno per un palazzetto a diacentia qui a rinverdire tutte le imprese dello sport trevigiano. Non si tratterà di una raccolta di cimeli, ma di trasmissioni al computer di tutti gli eventi che hanno fatto grande lo sport treviso. Ma sono veramente contento che si inizi con te, caro Betty. Grazie a lei Presidente anche per queste anticipazioni che ci ha dato in questa serata. I ringraziamenti proseguono e sono rivolti anche al Comune di Treviso e alla sua amministrazione, al Panathlon Club di Treviso che ha concesso il patrocinio di questa serata. Un saluto al Presidente del CONI che vedo qui in prima fila con noi, il Presidente Mario Sanson, l'Unione Nazionale Veterani dello Sport che è rappresentata da una numerosa delegazione, cappeggiata dal Presidente Beniamino Bazzotti e anche dal Presidente Vicario Patrizia Capuzzo. Siamo pronti allora per presentare i protagonisti, i relatori di questa serata. Andrò a leggervi un breve curriculum. L'autore è Prando Prandi, triestino di nascita ma trevigiano d'adozione, giornalista per passione. Lui è stato per quasi vent'anni corrispondente da Treviso, della Gazzetta dello Sport, collaboratore del Gazzettino, della Tribuna, del Piccolo di Trieste e di tante altre testate. Ha scritto anche numerosi libri di sport e non solo. Per anni Presidente del Panathlon Club di Treviso, già Vicepresidente nazionale dell'Unione Nazionale dello Sport, di cui oggi è Segretario Generale. Prando Prandi è stella al merito sportivo del CONI. Protagonista indiscusso di questa serata, Beppi Zambon. Non avrebbe bisogno di presentazioni ma noi leggiamo un breve curriculum anche perché altrimenti la serata andrebbe a leggere il tuo curriculum quindi abbiamo preso solo un estratto. Allora, nato a Treviso nel 1943, ha iniziato a giocare giovanissimo a tennis. Nel 61 ha conquistato la più prestigiosa coppa che il tennis club Treviso ha messo in bacheca ovvero la Coppa Bossi quale campione d'Italia squadre. La Federazione Italiana Tennis lo ha voluto giovanissimo quale maestro di tennis per i camp fit estivi e lì lui ha iniziato un pellegrinaggio che lo ha portato a girare tutta l'Italia poi nel corso di questa serata ci racconterà in prima persona questa esperienza. Ha giocato in Serie B, è approdato al 53esimo posto nella classifica assoluta ATP in Italia, ha vestito la maglia della nazionale ed è stato campione del mondo senior a Barcellona 99. Beppi Zambon. Con noi questa sera anche Leo Bassi, nato a Trieste ma vive da anni a Treviso, giocatore di prima categoria fra il 77 e il 79, in seguito istruttore federale. Leo Bassi è stato a lungo al fianco di Beppi Zambon, soprattutto nell'esperienza al tennis Zambon, quale ha apprezzato insegnante per la sua gestione tecnica. Nel 77 è approdato al 51esimo posto della classifica assoluta ATP e ha conquistato il titolo mondiale giornalisti per due anni, nell'86 in Svizzera e poi ha replicato nell'87 a Toronto quando vinse sia il singolare che il doppio in coppia con Stefano Ziantoni, giornalista e inviato della RAI. Per cinque anni basso è stato inviato per il tennis del quotidiano Tutto Sport, ha i più importanti tornei a livello mondiale, oggi è un'ottima penna del tennis. Tra le varie è stato anche responsabile delle sponsorizzazioni di Sergio Tacchini dal 93 al 98 prima di ricoprire il medesimo ruolo per i marchi di Nordica, Rollerblade, Playlife. Leo Bassi. Ed entriamo nel vivo della nostra presentazione, inizio dall'autore. Brando, per questo libro ti lascio alle spalle un anno e mezzo di lavoro, tra l'altro reso non semplice dalla pandemia perché lo sappiamo ha limitato i contatti e quant'altro. 70 ore di interviste all'attivo con Beppi, oltre ad una raccolta di immagini e fotografie il libro ne ha di inedite. Ecco Brando, raccontare la storia così ricca di avvenimenti di un personaggio poliedrico come Beppi ha rappresentato per te indubbiamente una nuova sfida narrativa. Immagino tu sia stato mosso non solo dall'interesse sportivo verso questa figura ma anche dalle sue caratteristiche umane. Certo, buonasera a tutti. Il movente è stato innanzitutto l'amicizia. Perché mi chiedo oggi, mi sono chiesto per annotare qualcosa e dirvi qualcosa che sento nel cuore, mi sono chiesto in questi giorni e quando è seguito poi la concretizzazione di questo libro, se questo libro è mio perché l'ho scritto o è di Beppi perché ne è protagonista. Sono certo che nell'uno o nell'altro avrebbero potuto fare il libro senza l'altro. E quindi devo dire che questo è anche un piccolo gesto di stima, ma grande stima nei confronti di uno sportivo trevigiano. Io sono particolarmente attento alle vicende dello sport trevigiano da tanti anni per quello che avete sentito. E' vero anche che le sorti dello sport vanno soprattutto per quel che riguarda l'agonismo, seguono i risultati agonistici. Nel caso di Beppi però questi risultati hanno costellato una vita intera ed è un excursus così interessante, così pregno di umanità che ho ceduto alla tentazione appunto di fare un libro con lui. Potrei chiusare a lungo dicendo che è stato un percorso non facile, non perché Beppi fosse un personaggio difficile, Beppi è un personaggio amabile sempre con il sorriso sulle labbra, perché le cose da dire erano tante. Lui sapete non è uno che si tiene molto nel divagare e quindi certamente ho fatto un po' di fatica a fare ordine nei pensieri. Questo ordine porta a dire che cosa? Che la vita di uno sportivo è fatta di impegno, è fatta di concretezza, è fatta anche di molti sogni, perché Beppi è un sognatore, lui ha sempre posto in avanti i suoi traguardi e quindi anche il fatto di aver chiamato questo libro, aver titolato il libro Beppi oltre la rete, è proprio per dare il segno che è una persona che guarda avanti. Quindi il libro ha più o meno 160 pagine e approfitto anche per ringraziare l'editore che è qui con noi, poi la saluteremo, ma queste 160 pagine dovrebbero essere infinite, perché Beppi ha prossime puntate da raccontarci. Diciamo che questo è il bello dello sport, questo è il bello di scrivere dello sport e quindi questa è una gratificazione, la vostra presenza per me è una gratificazione enorme e devo dire che se qualche volta accedo alla tentazione e di dire che forse questo è l'ultimo, so già che non manterrò la promessa perché di libri sportivi ne farò penso ancora. Grazie intanto per questo primo chiacchierato. Beppi veniamo a te, sei nel mondo del tennis da 68 anni e questo è già un dato che praticamente parla da solo. Villa Margherita è stato il luogo dell'incontro tra te e questo sport, ha iniziato a 10-11 anni. Mi ha colpito tantissimo leggere nelle prime pagine che tu giovanissimo, quel 17 aprile del 54, davanti ad un cartellone grandissimo a Villa Margherita con scritto vietato l'ingresso e non soci, decidi di farti coraggio ragazzino, scavalcare, andare avanti e quello è stato sicuramente il tuo appuntamento con il destino. Ci siamo dimenticati che c'è una via importante a Treviso che la fece pure Francesco Giuseppe quando veniva giù da Vienna e veniva a Venezia si è fermato una notte a dormire a casa mia, nel mio palazzo dove io sono nato che era di fronte a casa di Massimo, via le Felicente nell'84, non so che numero era il tuo comunque eravamo di fronte, dove a questo punto si andava a piedi a scuola e allora questo cartello mi ha incuriosito, allora lo guardo, quel cuore che mi batteva perché non si rispettava tutti i cartelli una volta e ora vado dentro, la prima erba alta di aprile, vado dentro e vedo una donna, entro dentro, mi ero nascosto nell'erba, vedo una donna in pantaloncini corti, io l'ho mai visto, mia madre aveva il massimo la gona alla caviglia, non l'avevo mai visto, non si andava al mare allora, insomma sono rimasto colpito da questo, e poi a un certo punto il custo, c'è una persona che mi dice, c'è o vien quattro a Subaete? oddio mi ha colpito, la famosa pedata nel sedere, allora si usava una volta e niente mi ha detto, vien quattro a Subaete, però bisognava tagliarmi le scarpe e mi hanno dato un paio di scarpe di quarta mano, perché una volta le scarpe non si buttavano mai via si portavano a vulcanizzare, a Porta Sant'Omaso, ecco, sono tornato lì, ho cominciato a, su questa panca bianca si erano seduti questi due signori, all'interno si erano riposati, mentre io raccoglievo le pari, a un certo punto mi dice, vai a prenderci la camminata, vado a prenderla a camminare, la porto e prendo la racchetta per la prima volta in mano, questa racchetta, con questa pallina, e ho cominciato lì i primi colpi, dopo un po', ho cominciato la mia prima racchetta, che era crepata, perché per me aveva la forma di racchetta, ma mi l'ho scontenuta per un paio d'anni, prima di mettere via dei soldi per comprare delle altre. E poi da lì hai iniziato anche a giocare, qualche anno più tardi? Ho iniziato subito, perché non c'erano le categorie che ci sono adesso, erano under 10, 12, 14, 16, una volta c'era l'unica categoria under 18, e noi ragazzini di 12 anni giocavamo con quelli che erano altri, e mi ricordo che battei un ragazzo che era cicciotello, lo vinsi, e arrivai quinto al torneo sociale, e mi hai detto una vecchia coppa del comandatore Garbuio, che l'aveva messa in paglio durante, 40 anni prima, c'era mostra la canina, e sullo schema del cane, sulla testa del cane, aveva scritto T.C., Tennis Camp, e questa è la prima coppa che ho ottenuto per tanto tempo, di Ottone, che l'ho conservata per tanto tempo. Questo è stato il primo passaggio, per poi dopo, lì ho cominciato a giocare con tutti i signori di Treviso, perché naturalmente c'era che venivano da me, e vediamo che giocare benino, e cominciavamo, e da lì siamo riusciti a costruire una grande squadra, e poi abbiamo visto il titolo italiano, e in questo titolo italiano c'è anche un signore qua, c'è lì in fondo, c'è in fondo Luigi Polon, poi Cianci e Luciano, e siamo riusciti a fare una forza, perché avevamo provato l'anno prima, ma sono stati bastonati a Brescia, e poi eravamo eleganti, parlando di eleganza, tutti con la giacca, con il di club, con tutti, veramente eravamo molti ragazzi, e poi abbiamo preso, per fare una squadra, come nel calcio adesso, bisogna prendere i nesti forti, per fare una buona squadra, poi giocare qui locali, e abbiamo preso da Pado a Gigi Saci, a Notaio, eccetera, e poi abbiamo preso da Pedavena a Luciani. Tanti, tantissimi personaggi, infatti, che tu hai incontrato nel corso della tua carriera, ecco, quindi da giovanissimo, Villa Margherita, il tuo incontro, poi hai deciso anche di condividere, trasmettere la tua passione anche ai giovanissimi. Infatti, io domando a Leo Bassi, tantissime le immagini proposte in questo libro, mi ha colpito vedere quanti giovani, quanti ragazzi, Bepi Zambon riusciva ad appassionare, quindi non solo allenare, ma anche appassionare. Beh, sì, era stato, il tennis è sempre stato importante, importantissimo a Treviso. Io, negli anni in cui ho insegnato, non molti, ma tra l'87 e il 90, era un must, cioè essere soci o frequentare lo Zambon era un must cittadino. Volevi essere in, volevi essere giusto, ti iscrivevi al tennis Zambon. Giocavi o non giocavi, non fai niente, frequentavi. Me lo ricordo perché credo sia stato, credo sia un record, un record non solo trevigiano, ma in generale in assoluto. Un giorno Bepi mi dice, guarda, sabato non prendere impegni, sei impegnato perché dobbiamo fare una cosa assieme. Io, conoscendolo, ho detto, addio qua, chissà cosa è successo. E mi fa, no no, abbiamo fatto 500 soci, 500 soci, quindi sabato si va a festeggiare. Me lo ricordo andammo ai Galli, a Roncade, e fu una festa veramente indimenticabile, sicuramente irripetibile. Dico 500 soci, oltre a tutti i bambini che frequentavano la scuola. La scuola era una festa, e noi avevamo eliminato la parola scuola. D'accordo con lui, ho detto, ma, ascolta, questi ragazzi qua vanno a scuola tutto il giorno, a luna, arrivano a casa, mangiano, un'altra scuola. Troviamo un altro modo, troviamo un'altra nomenclatura, un altro nome, ci inventavamo un sistema molto più semplice e più immediato. si poteva venire a giocare, si frequentava il club e la scuola, la cosiddetta scuola, senza orario. Qualunque ragazzo poteva venire, qualunque giorno, in qualunque orario, e trovava sempre posto. Molto bello, e anche questo, irripetibile oggi. Ecco, Beppe, tu hai avuto anche un'esperienza molto importante come maestro dei corsi fit, infatti in quegli anni per te hai iniziato un pellegrinaggio che ti ha portato da Treviso a Cesenatico, passando da Salerno, risalendo a Pavia, insomma, hai girato l'Italia in lungo e in largo e hai avuto modo anche di approcciarti a più stili tecnici. Allora, a vent'anni, a vent'anni, naturalmente quando uno lascia le gare, tutto quanto, ero a livello della Davis, praticamente, insieme con Maioli, solamente che ero uno che partiva bene durante la stagione, poi mi rovinavo strada facendo, perché naturalmente i soldi erano pochi, io dormivo, andavo a giocare al mare, dormivo sotto una barca, oppure c'era la giornata dei giocatori, i nonni dei giocatori, ti abuffavi come un camello e poi dopo magari, ma questo non era il massimo per diventare, e quindi sei perso. Allora, a un certo punto ho detto adesso qua bisogna fare qualcosa, allora ho deciso di passare professionista e ho cominciato a insegnare a mestre e andavo al su, abitavo a San Zeno, giù del calcavia, con la lambretta 125, andavo su e giù, andavo e tornavo a mestre, dove c'è dietro le piscine, c'era il tennis che è mestre, e da là è cominciato, poi a un certo punto la federazione mi prevede, che io avevo delle qualità diverse, degli altri, mi mette a organizzare, mi chiama in Sicilia, chi è che mi vuole giù in Sicilia? Concetolo Bello, il famoso arbitro di calcio, mi vuole là perché ha chiesto, mi devi mandare uno che non si intimorisca, io ho vent'anni, è da lì che mi sono chiestato, a crescere i baffi per dimostrare più anni, perché ero vicino a me, tutti i professori dell'Ise, poi dicevo, la cosa più grande, lei vengono venire in campo con 300 ragazzi, quando le mamme venivano, quanta gente c'è iscritta ai corsi in campo? Io ho detto, 100, minimo 100, perché si divertono di più, perché noi cercamo veramente i gruppi, dopo magari se fossero bravo, mi mettevi da parte, ma prima era stare insieme, allora questo è lo scopo, per quello ho fatto la Sicilia, tutta la Sicilia, parecchio, con Sello Bello mi vuole a Siracusa, che poi creò, grazie a un titolo mondiale, che aveva vinto un suo cittadino, aveva vinto i campionati del mondo, il campionato del mondo, patina al giorno d'hotel, ed è nata la città dello sport, via la cadina sopra, e da lì ho iniziato, 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 poi dopo naturalmente, avevo voglia di tornare, la federazione dice, sta crescendo un circo importante a Padova, è cresciuto da poco, la canottiera di Padova. Ecco perché avevi voglia di affrontare nuove sfide, infatti stava crescendo in te, sempre più un carattere non solo sportivo, ma anche organizzativo, e lì hai preso in mano la canottiera di Padova. Beh diciamo che loro, voi spendete tanti soldi per portarmi qui, e voi non avete un campo coperto? Perché ci spostavamo alla Sacra Famiglia, di fianco, dove andavamo ospiti, e a un certo punto ho detto, prendo io il primo pallone, lo compro io, ho comprato una cosa immensa, 40 per 40, e da lì ho iniziato la mia attività imprenditoriale, nello sport. Dopo a un certo punto mi mancava Treviso, Treviso, vivivo spesso a Treviso, perché naturalmente c'era, il cuore era sempre a Treviso, il cuore era a Treviso, e poi in caso ci andavamo sempre, da Johnny Boy, c'era sempre Johnny Boy. E lì uno degli incontri più importanti della tua vita, Treviso tra l'altro, quello con il conte Ancillotto, lì hai fatto una rivoluzione, perché lui praticamente ti ha affidato dei suoi campi agricoli, un campo agricolo, e tu l'hai rivoluzionato, nel giro di pochissimi mesi, l'hai trasformato nel park tennis. Ma penso che venne a cercarmi a Padova perché voleva fare i teni, i teni in gergo nobile, contadino, non chiamano i teni, un teni, due teni, tre teni, quattro teni, campi da tennis, e allora mi viene a cercare, e mi dice, beh, senti, se è riunito con i suoi fratelli, facciamo, e dove? Ma possiamo fare, dove loro avevano le tenute, verso Chioggia, oppure verso Vadobiade, o Villorba, fermo, Villorba subito, subito lì con una bussola, e in dieci minuti ho fatto il disegno di quello che adesso è il park tennis. Quindi in dieci minuti hai fatto il disegno e in tre mesi? No, in due mesi. In due mesi. Abbiamo buttato via tutte le cose che c'erano dentro, in queste macchine agricole, Bietitrevia, via di tutto, via tutte, in due mesi ho costruito il circolo, e l'abbiamo inaugurato il 30 marzo del 74. Poi però la tua voglia di oltrepassare la rete, anche in quell'occasione, anche in quegli anni, non è terminata, perché qualche anno più tardi tu sposti il tuo focus, il tuo centro di interesse, a sud della città. E lì si incrociano le strade anche con Leo Bassi, perché lui sarà quasi il tuo braccio destro, possiamo definirlo così, no? Grazie anche al suo aiuto, il park tennis diventerà fucina di talenti. Era già Zambon, non era più park. Sì, avevamo abbandonato... Tennis Zambon. Eh sì, è importante perché è un traguardo... Questo passaggio dal park, quindi lo lasciate, dopo che lo avete avviato, lo avete reso fucina di talenti, spostate la vostra direzione a sud e lì aprite proprio il tennis Zambon. Diana, posso dire un fragmento? perché naturalmente il tennis andava a mille, naturalmente avevamo un'accominazione, abbiamo preso anche tutta la cassa di Spamio, tutti gli impiegati, tutti quanti, il tennis era una cosa incredibile, avevo tanti soldi e volevo fare... Volevo comprare il circolo, volevo comprare il partenit del Conte Incilotto. Allora io chiedo, Conte Seda, mica la vorrei a comprare perché qua ormai... Beppi, mi sono nato qua, voglio tanti schemi, non mi interessava sapere quello perché naturalmente abbiamo creato da una landa deserta, abbiamo creato veramente un giardino. e allora ho cercato delle aree e ho trovato questo posto a Treviso ed era l'82. Solamente, sapete, parlare di Treviso e della Ghirada, via Ghirada, ed era una cosa abbastanza... era il posto più brutto di Treviso, più malfamato, non vi dico chi frequentava questo posto e allora tutti i miei soci del club, dei partenit, Enoto, Megaventuro, per quattro denari, cioè tutti i miei amici industriali che venivano perché naturalmente avevo organizzato delle feste, denominate le prime categorie che lo vedete nel libro poi. E quindi sono partito con questo e assolutamente c'era un problema. Il tennis era in discesa quel terreno che avevo comprato, mai visto il tennis in discesa, allora ho provato mille camion di terra. Ma tutti quanti, tutti scaricavano là, tutti gli impresari che mi vivono, venivano là, non c'era una discarica, felicissimo, dopo due mesi abbiamo inaugurato tutto sotto sopra, però abbiamo inaugurato con la vittoria di Maximo Zampieri prima di tornero che mi ha fatto. Prado, com'è stato raccontare quel periodo tra i vari ovviamente? Nell'82 nasceva il tennis Zambonna? Beh, è più facile dire che prima di quella tappa c'è stata la tappa del park che è stato un rodaggio incredibile, ne ha accennato ovviamente Beppi, e ha segnato la sua vita. Devo dire, a me piacciono gli accenti non solo tecnici, perché io non sono un tecnico del tennis, se no non avremo qui con noi Leo. Devo dire che se i successi di un circolo sportivo si possono ascrivere a chi lo idea, e poi è anche vero che chi sta vicino al titolare del club ha una responsabilità grossissima, l'accoglimento. Ecco, Beppi è sempre stato capace di accogliere, ma non solo accogliere per giocare a tennis, ma accogliere per creare una famiglia, per creare un gruppo. Sono memorabili le feste oceani che fatte al park, così come sono memorabili le feste organizzate al tennis zambon. E in questo devo dire e va citato credo e magari anche con un applauso anche se non è più tra noi Franco Bazzo per quel che riguarda la prima parte della sua carriera. Franco Bazzo era un buon maestro di tennis, ha coagulato attorno a sé decine e decine dei ragazzini e francamente vivere quella dimensione oggi a raccontarlo sembra semplice, ma parliamo di tanti anni fa quando il tennis era uno sport che usciva dalla sua dimensione rarefatta per diventare qualcosa di grande, di grande in termini di praticanti, vero Leo? Sì, mi è venuta in mente una cosa a proposito del parque il parque è stato una grandissima iniziativa e io arrivai per la prima volta a Treviso per giocare il torneo internazionale che avevo organizzato per primo grande evento diciamo tennistico trevisiano vinse Yannick Noa tanto per dire uno che poi qualche anno dopo nell'83 avrebbe vinto Roland Garros io giocai mi ricordo perché giocai il primo turno contro il figlio di Dean Martin il figlio di Dean Martin Dean Martin il grande attore americano giocatore così così non mi ricordo se vinci o persi non me lo ricordo probabilmente persi perché se no me lo ricorderei però è una bellissima esperienza è un bellissimo torneo che poi è diventato il primo di una serie di erenti importantissimi Borg Banatta poi ne parleremo dopo penso e altre cose ecco infatti Prando Beppi ha portato ed è conosciuto anche per questo non solo come maestro di tennis come ottimo gestore poi titolare proprietario quindi imprenditore ma anche ottimo organizzatore di eventi infatti alcuni li avete citati voi ma si ricorda Borg Banatta con 7000 spettatori un evento tennis spettacolo per Treviso incredibile un tutto esaurito eventi come questi oggi difficilmente si registrano ancora e nonostante gli anni trascorsi rimangono ancora vivi nella memoria dei trevigiani sì in quel periodo io collaboravo fittamente con la gazzetta dello sport e mi ricordo che si stupirono quando io dissi che c'era un pazzo che voleva far giocare Borg e Panatta insieme in un palazzetto che poteva essere anche troppo grande o troppo piccolo in realtà Beppi dimostrò la sua capacità organizzativa facendo partire il tam tam in tutte le scuole in tutti i circoli nel segno di un'apertura mentale che era ed è sicuramente un suo pregio cioè quella di guardare agli altri e tendere la mano reciprocamente perché il tennis non è di un circolo il tennis è di chi fa tennis e quindi lui coinvolse i circoli trevigiani e fu il tutto esaurito è una cosa incredibile come record pubblico di tutti i tempi è ovvio che oggi al Pala Verde sono arrivati grandi grandi squadre i grandi tornei Benetton ha fatto poi quello che ha fatto però diciamo che un uomo un uomo solo ad organizzare un qualcosa che poi è diventato comunque è restato negli annali credo che sia un qualche cosa e ricordo che fui molto affascinato da quella dimensione perché oltretutto Bepi ha questa capacità non è che sia una svioloninatura riesce a curare nella sua fantasia anche tutti i dettagli magari se ne ricorda l'ultimo momento e qualcuno li sfugge però diciamo che alla fine fa delle grandi cose infatti il discorso di portare attreviso i grandi nomi è stata la sua intuizione per fare attorno a sé vivere poi il circolo che continuava a vivere tutti i giorni con dei soci che arrivavano entusiasta ecco questo è stato secondo me un altro aspetto importante della carriera organizzativa di Bepi e della sua figura ecco Bepi come diceva Bene Prando la tua audacia organizzativa ha fatto la differenza nella storia del tennis trevigiano e non solo perché tanti sono stati i paesi che hai portato la tua arte la tua passione perché alla fine di questo si tratta e a proposito di audacia dopo soli dieci mesi da questo evento quindi Borga Panatta non soddisfatto cosa fai? regali un altro grandissimo evento ovvero una tappa del Volvo Grand Prix pochi si ricordano di questo evento naturalmente come direci direbbero il fiorerocchiello Borga Panatta ma quello per me non è il fiorerocchiello il fiorerocchiello aver portato Gerulitis Vitas Gerulitis vi ricordate quel personaggio simpaticissimo ed era fuori dal ranking mondiale per entrare tra i primi otto del mondo doveva vincere una gara importante per entrare dentro ed è venuto a Treviso perché il Volvo Grand Prix ed è venuto a Treviso e ha vinto il torneo battendo Ben Abilesti in finale e vincendo quei punti a Treviso andò a fare mezzo squad guard nel campionato mondiale finale del Master di New York tra i primi otto questo è stato pochi si ricordano di questo perché naturalmente tutto quanti si ricordano di Borga Panatta però io metterei veramente un accento su questo che è stato veramente anche perché è stata una settimana lunghissima perché ti hanno aiutato tutti tutti ti ospitavano ad esempio abbiamo passato le qualificazioni le abbiamo portate a Vittorio Veneto Palazzi dell'hotel Terme c'è ospitato gratuitamente tutti quelli che facevano le qualificazioni quindi c'era uno staff importante anche di aiuti e tutto quanto e poi cambiare tappeto addirittura nel Pala Verde trasformare portare gli allenamenti dentro allo Zambon mettendo impavimenti completamente diversi dello stesso tappeto che si giocava il Pala Verde quindi è stato un lavoro grandissimo di grandissimo aiuto di tanti volontari anche perché tu un aneddoto non ti fermavi mai anche nel libro c'è scritto come a volte affidavi a Leobassi la gestione dello Zambone e tu andavi in giro alla ricerca di idee organizzavi pensavi sempre ad andare oltre questa rete per offrire al pubblico trevigiano quando si esauriva poi spolpare a Treviso hai dato tanto c'eravamo il circo in Italia che aveva più tornei più eventi allora io andavo a cercare fuori e abbiamo trovato abbiamo trovato a un certo punto abbiamo trovato c'era c'era Bibione abbiamo fatto il torneo di internazio a Bibione abbiamo creato una sulla spiaggia abbiamo creato mille posti addirittura una tribuna con mille posti pensate e poi abbiamo trovato anche degli sponsor che naturalmente le agenzie immobiliari che ci tenevano ad avere questi campioni questi giocatori insomma e poi dopo di quell'anno abbiamo spostato l'anno dopo a Isolo semi internazionale ecco Prando Prani una domanda per te tantissimi sono i personaggi trevigiani Beppi con il percorso di Beppi si sono incrociate le vie di tantissimi personaggi alcuni sono anche qui questa sera sì nelle pagine del libro noi abbiamo riservato alcuni stelloncini o chiamarli capitoli a supporto e ho voluto abbiamo voluto individuare alcune persone che con la loro esperienza tennistica a vario titolo si sono proprio inserite nella vita dello sport del tennis a Treviso in maniera autorevole e hanno fatto correre la loro vita in parte soprattutto per quello che sono ovviamente gli agonisti lungo questa lungo la strada che Beppi ha tracciato perché nelle pagine del libro c'è spazio per Sveva Viale che è qui con noi e che è stata racconta di dell'aiuto che ha avuto nell'affrontare il mondo dello sport a livello professionistico comunque facciandosi sullo sport professionistico a livello non solo tecnico ma anche umano Marta Konean che ha toccato con mano l'esperienza del tennis club a Treviso ha iniziato lì e poi è stata seguita da Beppi per tanti anni abbiamo voluto inserire anche però degli interventi particolari come quello per esempio dell'onorevole Marizio Sacconi che è qui in prima fila che io approfitto per salutare e ringraziare per la sua presenza perché abbiamo scoperto io l'ho scoperto che è stato un ottimo tennista e che è stato anche campione italiano di quello che è la categoria dei dicono dei palleggiatori e quindi magari dopo gli chiederò qualche cosa su questa esperienza ecco allora queste persone queste persone tracciano la storia del tennis assieme a Beppi Beppi non ha mai prevaricato ha creato e quello mi ha toccato proprio nelle sue chiacchiere che abbiamo fatto insieme mi ha detto io non cercavo i grandi campioni a tutti i costi io formavo gente che si appassionasse al tennis e continuasse a giocarlo per tutta la vita ed è questo forse il suo grande segreto per essere riuscito ad avere intanto tanti amici e poi avere tanti amici che hanno giocato bene a tennis Beppi ti sei tolto anche tantissime soddisfazioni perché poi se ne parla nel libro arrivano anche gli anni definiti da prando come la seconda giovinezza dove ti togli qualche soddisfazione non da poco ce ne parli? allora quando mi dico io ho 78 anni ma inizio adesso a lavorare naturalmente perché è bello saldire scendere ai delitati e bassi nella vita non è che ti dici oddio metta io le vene no no anzi questo è di stimolo per fare di più perché no eri troppo grasso stavi troppo bene tutto funzionava bene quindi avevo bisogno di certe emozioni e ho trovato questa forte emozione di ricominciare a ricostruire delle cose abbandonate che la mia specialità è quella di mettere in sesto delle cose dei circoli abbandonati da vent'anni e farli tornare di nuovo in auge e quindi sto creando adesso nel piccino sto creando questo posto straordinario in montagna che era voi dovete sapere che ma negli anni della seconda giovinezza che cosa che cosa hai fatto perché hai vinto anche dei tornei importanti hai vinto dei tornei importanti come over sì sì beh arriviamo a Barcellona e lì ho vinto i campionati mondiali ecco perché volevo che lo dicesi tu perché io l'ho anticipato prima ma non volevo toglierti il piacere ma sai sono delle cose importanti ma guarda che secondo me sono le piccole soddisfazioni diciamole 3.980 posti vuoti perché c'era mia moglie non è venuta a vedere ma no hanno andato in giro per la rambla a Barcellona e gli altri mesi ho visto solamente e poi il mio compagno ha detto ma Giorgio guarda ma siamo più di un condominio titolo mondiale e allora hai sentito la bellezza di questa vittoria contro due australiani che erano enormi no e noi solida canaiala noi eravamo quelli proprio che li mettevano in difficoltà perché facevamo eravamo un po' scorretti perché naturalmente facevamo vedere le cose ma rispondevi quando eri vicino a tutto quanto ti diravi disturbavi non ero un gentleman e però arrivano un po' messi sotto che loro erano un po' bambinoni quindi sono caduti nella rete questo è stato una questa è stata una una grossa grosso veto ma l'avvento di Vibero è stato a biciotta anni vinse da targhe volpi targhe volpi i conti i volpi i volpi di misurata i volpi perché avevano fatto avevano fatto Marghera erano dato e a Venezia erano dei miti avevano creato all'Eccelsior all'Ido avevano creato le targhe volpi internazionali perché sono i più grandi campioni del mondo e avevano istituito questa insalatiera come la Coppa David poi dopo l'apanaggio di questo sponsor è venuto meno quindi hanno messo in paglio questa coppa che l'ho vinta per tre anni e ce l'ho ancora a casa con grande gioia non l'ho mai messa al monte di pietà perché ho tanta voglia di mettere per quando avevo bisogno di soldi e invece l'ho ancora lì l'ho ancora lì che ogni tanto le faccio vedere perché veramente è una cosa molto bella non hai fatto quello che voleva fare Borg vendere i trofei di Wimbledon si era trovato in difficoltà grandissima difficoltà economica e una decina di anni fa circa mise in vendita mise all'asta i trofei di Wimbledon e lo chiamò McEnroe e gli dice no questo non lo puoi fare te li compro io non puoi vendere i trofei di Wimbledon poi non so se li li compro veramente o lo aiutò diciamo lo aiutò in qualche maniera però i trofei restano a casa ecco una storia vera la tua storia la tua vita non si omette niente in questo libro neanche gli anni bui che poi sono sono seguiti sì qui c'è stata una scelta io prendo io la parola su questo tema perché Beppi è la persona in causa quindi credo che sia giusto che lo dica allora in questo taboga nella vita succedono delle cose che alle volte non si pensa dovrebbero succedere Beppi inseguendo i sogni ha inseguito anche una dimensione che poi in parte ha raggiunto in parte gli è svanita dalle mani per cause che abbiamo descritto nel libro però io devo dire sottolineare questo aspetto nella prefazione di Gigi Maffei che ringrazio non è qui con noi lui dice giustamente che il mondo si divide in peccatori e non peccatori e i peccati vengono più o meno catalogati a seconda di quello che uno fa o non fa nella vita ecco quello che sicuramente non ha fatto Beppi è calcolare che il mondo è difficile duro e che l'imprenditoria è fatta di successi ma anche di capabilità ma anche di fortuna quindi il fatto che lui oggi non sia più attreviso diciamo che senza polemica nei confronti di questa città che comunque accoglie tutti volentieri è un po' la conseguenza di una situazione che nel computo tra le cose che lui ha dato e le cose che ha ricevuto forse non sta molto in piedi nel senso che Treviso non dovrebbe dimenticare questi personaggi oggi il tennis zambon non si chiamerà più tennis zambon chi succederà a Beppi nella gestione ha pensato bene di radere al suolo quello che era il tennis zambon per fare un grande progetto è una situazione che sicuramente per chi è appassionato di tennis e ha vissuto questo escursus si trova a dover così con un po' di sì è veder distrutto un patrimonio umano e anche tennistico però è vero anche che bisogna far largo alle situazioni che arrivano io dico quindi che questo libro non è soltanto la raccolta di situazioni agonistiche e una vita di tennis è anche un percorso da suggerire a chi legge le pagine cioè quello di dire che alle volte lo sport può dare sia in termini agonistici che imprenditoriali delle soddisfazioni ma anche delle delusioni rimane il sorriso sulle labbra rimane il personaggio Beppe Zambon e rimane l'insegnamento perché in effetti poi quando si parla di Panathlon quando si parla di veterani dello sport noi con i capelli ormai bianchi abbiamo la tentazione di dire che noi possiamo parlare ai giovani sono gli esempi dei grandi sportivi che parlano ai giovani noi cogliamo i valori di questi uomini e quindi in queste pagine ho voluto raccogliere i valori non solo le vicende belle o brutte sport sport maestro di vita e come valore sociale come giustamente ha detto bene Prando ecco Beppe ci siamo soffermati in questa serata a parlare moltissimo dei tuoi successi in particolar modo nel territorio trevigiano con un focus particolare qui a Treviso perché è la tua città d'origine ma c'è un'altra città che ti ha accolto che ti ha amato e ti ama ti ha visto giocatore una città dove hai conosciuto la donna che ti sta accanto da tantissimi anni stiamo parlando di Ascoli ad Ascoli tu hai ritrovato la tua rinascita perché la tua è una storia anche di resilienza una rinascita trovata dove ti sei subito messo alla prova con nuove sfide e anche lì hai un circolo hai rivoluzionato un circolo nel giro di due mesi i tuoi record storici che rivoluzioni questi tennis correggimi se sbaglio 11 campi 2 di terra rossa stiamo parlando del Colle San Marco 10 chilometri sopra d'Ascoli la federazione aveva visto in questo straordinario posto appena appena i faldi dei modi Sibilini aveva visto una e ha fatto allora c'erano le aziende di soggiorno di soggiorno ha fatto questi 11 campi una cosa meravigliosa e ha preso la federazione e tutti quanti andavano lì a fare i centri estivi panata e tutti quanti i seguiti i ragazzi eccetera quindi prima di grandi eventi andavano ad allenarsi là solamente nel tempo poi questa qui è passata dall'azienda del soggiorno è passata dalla regione dalla regione alla provincia tutti questi passaggi strani e naturalmente ognuno ci ha messo lo zampino fatto stare che è stato in abbandono io ogni volta che ritornavo in Ascoli perché sono andato lì per la prima volta nel 67 non sapevo neanche cos'era Ascoli per me AP voleva dirmi attesa di punizione da militare Ascoli Piceno AP Ascoli Piceno vuol dire che era in tabella da bersagliere Ascoli Ascoli però dopo troppo forte richiamo per la tua terra la tua terra tant'è che lì si rincrociano di nuovo le strade con il conte Ancillotto uno degli incontri più importanti della tua vita che cosa succede lui ti dice ma mi sistemi una proprietà che ho a Crocetta e facciamo un altro circolo del Tremigiano gli Ancillotto naturalmente noi andando a scuola da Sant'Artien passavamo davanti Villa Catamario Quadri Catamario Ancillotto era di fronte al Tennis Chiave Treviso era di fronte allo storico Tennis Chiave Treviso e allora a un certo punto Ancillotto poi a un certo punto Ancillotto faccio il Tennis Zambon e chi è il confinante Ancillotto allora per non far sì che il campo il famoso campo fosse stretto il primo campo più importante fosse stato piccolo ho detto chi è il più vicino Ancillotto e allora ho chiesto lui mi ha dato due o tre abbiamo dato porzioni per fare un circolo più grande e questo è stato però dopo ho finito là allora a un certo punto ho passato nel 2012 ho fatto i 30 anni premiato da tutti premiato da Zai da componenti eccetera ho detto basta adesso voglio smettere di lavorare da quel momento ho fatto e poi dopo a un certo punto questi qui non mi hanno più pagato allora cosa ho fatto io sono rimasto povero ma con la mia rule mi sono incatenato anche perché non vedete nell'Iru mi sono incatenato per protesta per far vedere che sono stato bidonato insomma e allora prendo la mia rule e vado a insegnare a Gesù a fare il maestro come una volta via da là a un certo punto ho detto adesso bisogna fare le cose per bene allora a un certo punto ho detto non è che io vado torno ad Asqui però devo star vicino a Treviso per vedere per vedere se c'è la possibilità in qualche maniera e ho contattato il comune per tanto tempo perché pensavo che fosse lui a prendere questo perché il mio club non potendo pagare queste due milioni di euro perché ho fatto le piscine più belle del mondo nel Castiglione a un certo punto non mi seroso conto che costano tutto non mi seroso conto che fai da apripista a tutti dopo ce l'hai fatta ce l'hai fatta a tornare con una serie di perpezia che leggeremo nel libro non sveliamo altro sai cosa però è stato che io ho fatto da apripista a tutti in tutte le cose il primo a fare il calcetto tutti quanti hanno fatto il calcetto il primo a fare la piscina la prima piscina questo è vero ecco perché credo che Prando come ha spiegato anche all'inizio ha scelto proprio tra tanti titoli che potevano dare a un personaggio come te forse ha scelto proprio quello giusto che ti rappresenta a 360 anni sì esatto infatti ti posso dire che dopo dopo un certo punto speravo speravo nel 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 che il comune era interessato era interessato almeno parlando con i miei amici eccetera invece poi arriva Adriano si sono inginocchiati e tu è avanti a lui il comune ha fatto bingo invece questo è il punto no? abbiamo un po' sviscerato alcuni aspetti che troverete comunque nelle pagine di questo libro e adesso vogliamo iniziare una seconda fase della presentazione una sorta di tavola rotonda dove i nostri protagonisti potranno scambiarsi anche delle domande infatti lascio la parola a Leo Bassi che aveva delle domande interessanti da rivolgere a Beppi sul tennis di oggi sì no volevo abbiamo parlato tanto del passato volevo specificare una cosa Borg Panatta non per tornare su questo evento ha il record di pubblico di tutti i tempi del Palaverde perché a quel tempo in quell'occasione non c'erano ancora le regole strette per cui oggi non si può più camminare lungo le scale non ci si può più stare in piedi dietro alle transenne eccetera in quell'occasione queste regole ancora non c'erano e quindi questo permise i famosi 6.314 paganti che rappresentano il record rappresenteranno per sempre con tutto rispetto poi la Benetton ha fatto la storia dello sport televisiano però con le nuove regole il massimo della capienza oggi è 5.414 quindi questo è il motivo per cui ci sono stati 800 spettatori in più volevo attualizzare con una domanda a Beppi un po' attualizzare un po' la serata allora tu non c'è nessuno forse in Italia con 68 anni di esperienza che può rispondere alla domanda che sto per farti il tennis è cambiato tantissimo pensiamo soltanto alle racchette cosa permette oggi una racchetta rispetto a quando giocavamo noi le racchette di legno pesavano 440 grammi oggi una racchetta pesa circa 280 290 grammi la velocità soprattutto permette la velocità e la facilità tu con il tennis moderno cosa pensi beh diciamo che adesso una volta c'era il talento si giocava la palla era molto più lento c'erano le racchette di legno ed erano quelli che ti permettevano di disegnare di creare delle atmosfere dei quadri mentre giocava in campo adesso no adesso si gioca solo di potenza ti dico subito una cosa ma non è proprio vero questo perché c'è stato io ero a Wimbledon che vedevo un incontro di dopo tra Noa Yannick Noa che ci saluta quando ci vedevamo era sempre un grande abbraccio ma io non lo vedevo non era ancora nei campi centrali e allora vedevo Colin Diblet un australiano che giocava con la racchetta di legna a 207 km all'ora quindi pensate che c'è stata un'evoluzione naturalmente con le racchette che adesso tutti i giochi non si riesce a distinguere le trame di gioco adesso se voi vedete in televisione diagonale 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 non ci sono variazioni sono rare le variazioni quindi però c'è ancora qualcuno che ha del talento che io dico sempre che il talento per me è il 50% adesso sono tutte socche no? no perché dicono che rappresenta adesso il 10% ascolta un attimo noi ci parla tanto adesso c'è una seconda domanda tutti adesso parlano del boom del tennis italiano abbiamo 9 giocatori nei primi centri del mondo la Germania che spende il triplo di noi ne ha 3 gli Stati Uniti che spende 5 volte quello che spende l'Italia ne ha 6 la Svezia dei grandi di un tempo ne ha 1 quindi siamo in una situazione di boom complessivo totale tu se potessi scegliere se tu tornassi in campo preferiresti allenare Berrettini o Sinner? io ti posso dire una cosa non mi piace nessuno dei due è una bestemmia è un'eresia che dico però mi piace più Musetti no sapevo che rispondevi così è quello che gioca è rovescio a una mano è l'unico che gioca è rovescio a una mano a parte che poi naturalmente questo giocatore è andato in crisi per motivi personali i tennis quando uno arriva molto in alto è facile che non ha una età una preparazione è esploso è stato breve a un certo punto è andato in crisi è perso tutto però mi piaceva molto specialmente il primo periodo dell'anno è stato quello che mi piaceva più di tutti non mi entusiasma non mi entusiasma ma tornando un po' indietro nel tempo se vi ricordate che abbiamo tenuto a battesimo Yannick Noah quando venne a fare il mio torneo era sponsorizzato Americanino mi ricordo perché naturalmente c'era anche gli sponsor una volta e si chiamava Americanino e abbiamo combinato perché naturalmente tutti venivano vi ricordate il famoso capo il King ecco anche Nene e Geschena venivano cavarcere venivano a giocare a te una sera da noi a Treviso perché avevamo avevamo creato un'atmosfera di così di grande eccitazione internazionale di tornei di tutto cosa ti è sembrato beh la scena di Djokovic che piange in mondo visione l'abbiamo vista tutti mi ha commosso siccome qualcuno ha scritto che non mi ricordo chi ma qualcuno ha scritto che il tennis ha inventato il diavolo tu cosa pensi di questo allora andiamo a dire nel tempo sono Ortis Eton internazionale gioco contro il numero 4 al mondo Ronald Barnes non ricordo 4 io ero 18 pieno di buone speranze arrivo al match point che sì ma non si diceva match point si diceva match ball una volta la parola sua era questa arrivo a un attimo a un un centimetro dal traguardo colpo facilissimo mi arriva sul rovescio mi viene il braccino perdo perdo la partita vado in campo mi metto a piangere ecco perché mi è venuto in mente quel particolare di Djokovic che sperava arrivare a vincere il Grand Slam e ha trovato quel matto di Russo che l'ha battuto ma aveva qualcosa dentro dentro nella per questo che dico il diavolo eh sì perché la testa conta tantissimo ha spiegato molto bene Prandolo l'ha spiegato molto bene nel libro è uno sport fatto di precisione e di concentrazione e di tutta una componente emotiva che ha colpito anche e colpisce sempre grandi giocatori l'abbiamo visto domenica tutti e faceva anche un po' impressione ecco diciamo vedere il numero uno del mondo e piangere perché non è riuscito a non è riuscito a reggere la pressione di questa partita ecco se non ci sono allora altre domande eh da parte dei relatori possiamo giungere alle conclusioni non prima però di aver salutato DAC edizione di Castelfranco Veneto che è presente con la titolare Nerella Guidotto Alberto Ferrari che ha curato la grafica e ha fornito alcune belle foto oltre a quelle di copertina Renato Vettorato il fotografo che ha immortalato con decine di scatti Bepi in ogni sua avventura e poi chi ha voluto con un capitolo portare un contributo di ricordi e pensieri vero Prando Prandi su Zambon sono numerosi sì sono numerosi li ho citati in parte aggiungo ovviamente anche gli amici giornalisti le penne che hanno contribuito alla bellezza di questo racconto Hermes Brugnaro che è qui con noi che io ringrazio così alla pari ringrazio Federico Monico che è stato bloccato dal Green Party pass che non gli funzionava più o meno Federico Monico è un personaggio leggendario era qui con noi lo rivedremo nella prossima presentazione perché ne faremo ancora di presentazioni qui a Treviso e poi come dicevo anche gli amici della stampa devo ringraziare particolarmente gli amici della stampa per quello che fanno purtroppo siamo schiavi a Treviso dell'egemonia del pallavolo femminile e del basket maschile sembra che non ci sia altro a Treviso forse se aggiungeranno delle pagine o toglieranno qualcosa al limoco e al Treviso basket ci sarà spazio anche per il tennis forse se no compreremo qualche rivista tennistica che va bene lo stesso sul tema del sui tanti temi che abbiamo toccato e ho anticipato la sua presenza qui volevo un saluto da parte di Maurizio Sacconi che nella duplice veste di amico e di giocatore di tennis oltre che di scrittore e quindi nella triplice veste magari ha un pensiero su questa nostra piccola fatica e su questa e sul contenuto di questo libro vogliamo passargli il microfono ecco lì cortesemente la signora Michela le passerà il microfono o se vuole venire qui vicino a me Maurizio buonasera a tutti ho accettato con molto piacere di partecipare a questo incontro per avviare la promozione di un bel libro io credo che dobbiamo tutti innanzitutto un ringraziamento sincero a Prando Prandi perché ancora una volta ha raccontato cose di marca con molto in modo molto giusto cioè senza retorica di Beppi e verrò subito a lui ha raccontato i successi e le sconfitte ed altronde la vita è così è giusto che sia fatta di successi e di successi e normalmente c'è anche proporzione tra i due e questo racconto è uno spaccato della vita trevigiana anche se poi ci sono le proiezioni su Ascoli Piceno tua seconda tua seconda casa che ti ha dato Pannini soprattutto ma tu sei molto legato a questo territorio la tua famiglia io ricordo che i miei giri di preferenze passavo sempre a casa a casa Zambon perché in particolare Giannino suo fratello era un mio sostenitore ai bei tempi delle preferenze per essere eletti non quando l'elezione dipendeva come è ripreso anche per me poi dalla decisione di un capopartito e così ho svelato che votavate socialista ai bei tempi e cose che mi è molto piacere ricordare quindi ancora una volta un ringraziamento sincero a Prando Prandi perché si vede che ama questo territorio e cerca nelle pieghe della nostra avventura umana protagonisti persone che comunque hanno rappresentato qualcosa e concorso con ciò che hanno fatto a disegnare il territorio che è oggi la comunità che oggi siamo frutto di tante cose come quelle qui raccontate Bepi per me Bepi è stato aveva 11 anni immediatamente un punto di riferimento lui e Luigi Polon perché insieme a Luciani e Konen vinsero la Coppa Bossing inaspettatamente nel 1961 hanno sconfitto molti giocatori che poi hanno avuto grandi risultati hanno prodotto grandi risultati nel corso del loro percorso e per me che per la prima volta uscivo dalle prime lezioni di scuola che il tennis club allora lodevolmente promuoveva nell'ambito degli istituti scolari delle scuole medie e frequentavo il tennis club Treviso ecco la premiazione vostra nella festa di primavera di avvio dell'attività estiva perché allora i campi si chiudevano d'inverno e ancora si coprono e quindi avete rappresentato un punto differente poi con Bepi in particolare c'è stato un episodio tennistico comune la partecipazione al primo torneo nazionale maestri e palleggiatori allora erano le due categorie di insegnamento oggi ci sono i gradi di istruttore prima di maestro e partecipavamo a questo torneo e Bepi fu un protagonista vero di questo torneo dove c'erano giocatori importanti come Giacobini anzi credo tu abbia perso proprio con Giacobini probabilmente che era un'ottima prima categoria ma lui chiamava molta gente a vederlo perché era uno spettacolo nello spettacolo una fascia rossa che allora era assolutamente disdicevole perché giocavamo rigorosamente in bianco l'urlo che non era come per molte giocatrici soprattutto oggi necessario lo faceva ad arte per disturbare un giocatore compassato come Giacobini il finto servizio cominciava e si fermava e poi palleggiava per un pezzo molto più di Djokovic e quindi era uno spettacolo ripeto tutti correvamo a vedere c'è Zambon che gioca e a me capitò poi la piccola soddisfazione di quel torneo ma fu una bella esperienza umana perché vivemmo insieme stessa albergo forse anche stessa camera con Maiaroli maestro maestro e poi insomma ci siamo risentiti in tante occasioni successive io ho solo fatto un'osservazione chi ti ha conosciuto credo ti debba gratitudine perché ti ha visto maestro non solo di tennis ma anche di buon umore e di vitalità in ogni circostanza della vita e questo è molto importante perché in tempi nei quali affrontiamo difficili prove abbiamo bisogno di maestri di vitalità grazie Beppi ringraziamo l'onorevole Sacconi che ha riportato in vita anche ricordi tante personaggi abbiamo detto si sono incrociate con le vite di Beppi qui con noi anche Maurizio Massimo Zanetti scusate passare da Maurizio a Massimo perdonatemi Massimo Zanetti se anche lei vuole portare un ricordo un ricordo che lo lega Massimo se lui se lo ricorda ma lui era un po' più vecchio di me e veniva sempre a giocare a casa nostra e allora lui la dico perché perché l'avete citato tante volte lui è un uomo tutte le cose che ha fatto è perché è una fantasia enorme noi di gioco cosa facevamo io e lui avevamo organizzato il giro del mondo da bambini allora in giardino preparavamo il mangiare sui quali zaini e partivamo e facevamo il giro del giardino prima del te il giro del giardino lui era un po' più vecchio era piccolino pensa che fantasia lui ha cominciato l'aggiro del mondo ha girato dappertutto in tutta Italia e sempre ha avuto questa forza di rincominciare questa è la sua più bella cosa perché lui è un grande tennista è stato il tennista trevisiano più forte assolutamente però è anche un grande imprenditore perché tutte le cose che ha fatto vengono fuori da questo spirito veneto dell'imprenditoria e della fantasia bravo Beppe adesso ti chiedi una cosa prima allora Massimo allora oltre la rete sapete cosa c'è oltre la rete quante cose ci sono oltre la rete ma da noi oltre la rete era la casa di Massimo perché noi per venire a casa mia passavo davanti però c'era nell'angolo vicino a Gasparin noi saltavamo la rete oltre la rete andavamo a rubare l'uva perolotta l'uva bianca che era l'unico che ce l'aveva nessuno aveva l'uva bianca così pregiata e c'era con un segno sulla gamba c'era un reticolato lo è stato reticolato erano i banditi facciamo le cose così avventurose oltre la rete anche questo grazie 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 a Massimo Zanetti per questo aneddoto e questi ricordi ecco vi ricordo che l'autore e Bepi si fermeranno giù al piano di sotto per chi volesse acquistare il libro e sono disponibili anche per una dedica e un ricordo grazie a tutti voi per essere qui però la chiusura la lascio all'autore Prando Prandi allora due cose soltanto i ringraziamenti sono di di prassi però io ho un desiderio che questo non sia un episodio di chiusura della carriera di Bepi ma un episodio perché continui a credere nello sport e questo mi dà terzo per poter proporre al presidente del CONI che è qui con noi di Treviso di candidare Bepi alla stella al merito dello sport del CONI che penso meriterebbe appieno sei impegnato bene Mario attenzione a te adesso è un bel impegno la vita di questo grande maestro come abbiamo detto all'inizio una storia di audacia di passione per il tennis di amicizia e di resilienza Bepi Bepi Zambonna Bepi oltre la rete grazie a tutti per questa serata grazie di essere stati qui con noi lei non lo sa ma ringrazio Diana Di Nuzzo per la sua capacità e competenza e gentilezza